crema solare, asciugamani, occhievi del sole ok qui c'è tutto Danny bene direi che possiamo partire allora ciao mamma ciao ragazzi divertitevi e mi raccomando Danny mettiti tanta tanta crema solare che tu sennò diventi un burstel cotto si ok mamma andiamo ciao ah eccoci qui chissà c'è qualcuno dei nostri amici già spero soprattutto che ci siano già Alex o Viola ah si c'è già qualcuno ciao ragazze oh ciao ragazzi stavo giusto facendo il tour della piscina ad Anna oh si è proprio fantastica che peccato che l'altranno non c'ero ciao Viola tu non fai il bagno si si ora entro mi stavo mettendo la crema solare Danny entriamo insieme? certo Danny devi mettere la crema solare ah giusto arrivo subito dopo wow che bello il tuo gommone rosa già è stupendo ovviamente non è perché non so nuotare ma è che bello andarci ragazzi avete già provato lo scivolo no io lo dicevo a parte che ci sono già andata l'altranno comunque è stata la prima cosa che ho fatto già è la cosa migliore di questo posto e poi oggi è una splendida giornata avevate proprio ragione questa è una piscina fantastica guarda quanta gente per fortuna non c'è Carlo in giro ho sempre paura di andare in giro penso che ce l'abbia ancora con me cosa hai detto Viola? non ho niente mi piace giusto ma dov'è Viola? è sparita l'ho cercata in pasticceria in biblioteca ho guardato sono scritta su un albero ho guardato in camera sua e non c'è poi anche i suoi amici bisogna vedere Blair non capisco cos'è quel cartello su quest'albero? ha aperto la piscina loro sicuramente non hanno perso occasioni di andarci vado aspetta no ma come faccio? non posso andare là e provarci con Blair c'è Sara vabbè vado a vedere come se la stanno cavando l'acqua è stupenda che bello che ci siamo trasferiti ah eccoli tutti là ah 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 cavolo Samonte rischi di vedermi rischiamo tutti di vedermi beh ti spiego da qua dietro mi metto qui non dovrebbero vedermi sono troppo intenti a divertirsi ma chi ha parlato? oh no me lo sono immaginato l'acqua è stupenda ma ora che ci penso dov'è Betty? oh mi ha scritto che oggi aveva un appuntamento del dentista magari viene domani oh che peccato so che lei è molto brava a fare i trucchi lei è la numero uno oh andiamo no 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 non è possibile lei non è la migliore nei tuffi sono io ah beh però anche lei è molto brava no no Danny? chi è migliore per te? Betty o io? vediamo cosa risponde ah beh tu sì secondo me te visto? visto? ma Alex certo se te lo chiedi al tuo migliore amico è ovvio che dice te la sua ex Blair non esagerare già ah ok scusa non vorrei non vorrei averlo fatto sarebbe tutto ok Danny? sì sì tutto ok dove vai Blair? vado solo a prendere una cosa torno subito ok stupenda cavolo per un po' non mi vedevano non posso farmi vedere però io devo avere Blair a proposito dove è andata? ehi ma da qui questa qua da dove arriva? l'ho portata io quindi dice giochiamo un po' pallanuoto? sì ottima idea Blair che buona buona ahia Blair mi hai fatto uscire dal ciambellone scusate sono pessima nei tuffi forse è vero che Alex è il migliore e Betty? ok voi siete i due migliori del gruppo va bene? non c'è troppo migliore va bene esco un attimo del ciambellone la lascio qui nell'angolo dai Laura che è pronta a farsi stracciare da me? che io un po' di tempo fa avevo pallavolo cioè cosa cambia da pallanuoto? beh Samantha c'è una grande differenza è tutto chi se imprega ragazzi fate attenzione perché ci sono anche persone grandi scusa dai Danny mi sembra non mi sembrava di rispondere lì così non sono la stessa cosa vabbè ma Samantha magari non lo sapeva anche io so più cose di loro però insomma Danny sei sicuro che non c'è niente che non va? a me puoi dire tutto certo perché a me le cose le dici vabbè c'è una montagna Danny sei ancora arrabbiato oggi hanno il primo giorno che ha bella piscina sa giochiamo sto pallavolo in acqua Anna è Samantha sì che atti quante bibite dolci vabbè c'è una montagna di gente passa prendi Alex passa Argentina Anna è tua devo trovare il modo di riavere Blè però noto che Blè si sta divertendo molto mentre Sara è qui tutta sola che bello non è che stanno proprio insieme ma a me contina sembra di sentire qualcuno boh sono Sara è da sola potrei sfruttare questo potrei fargli tante foto in cui Sara è lì e Blè è lì che si diverte e poi mandarle sul blog di Giulia anonimamente così penseranno che la città le ha fatto delle foto e ha notato che non stanno abbastanza insieme lei capirà chi non l'ama io la corteggerò di nuovo e torneremo insieme sì allora prendo il telefono bella piscina wow c'è anche lo sci bella piscina questa è perfetta a questa angolatura viene perfetta Sara da sola e Ber che si diverte ecco fatto ne faccio un paio e poi le mando a Giulia però devo vedere se le pubblicherà ma sì in fondo ho pubblicato quella foto di Anna quindi credo di sì lei non tiene davvero a loro ragazzi il nostro episodio finisce qui mi pare vi è mancata questa piscina magari chi mi segue da poco da tutta l'altra estate non sa sì questa è la piscina di Nudol City e loro ci vanno della città bassa e Carol a quanto pare passerà tutta la giornata a fare foto a Blair e Sara secondo voi non sono bastante attaccate secondo voi sono fatte per stare insieme o Blair dovrebbe tornare con Carola tanto so che sceglieranno tutte la seconda Sara non non la merita è troppo bella io e lei siamo entrambe belle quindi stiamo insieme secondo me dovrebbe essere gli opposti si attraggono sta zitta ma che ne vuoi sapere tu camera girl comunque ragazzi iscrivetevi lasciate like abbonatevi e niente mettete un like perché il mio piano è fantapolare iscriveteci anche in i commenti secondo voi cosa ha Danny già è strano secondo voi ce l'ha ancora con me perché non gli ho detto di quella faccenda che non sanno ancora proprio tutta la verità cosa? no niente non lo so se è sempre lì che bisbiglia qualcosa Viola già ma che c'entra penso parlo fra me e me certo perché tu non l'hai mai fatto? ma visto ragazzi noi litighiamo allora ci vediamo una prossima volta un bacione e un abbraccio ciao 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 ciao